di spaziale ve lo dico io tutto a parte che a livello unice Gelindo è molto forte se per il tipo di brawler in generale no ma per il tipo di brawler non so se mi intendo poi qui c'è Gelindo se con la super ha un raggio così e lungo così come per me diventa un raggio più corto ma più asimo e un raggio più corto di vento vedete che qui il nuovo robot è molto indietro adesso guardate con i robottini più quelli che c'è son lì davanti poi qui davanti fa 3,360 guardate qui e se non mi sbaglio andiamo qui a controllare ma dovrei averli fatti tutti io me l'ho fatto ho fatto anche quello di poi però ho fatto anche 6 ho fatto 3 ho fatto 3 ho fatto 3 ci siamo e quindi direi che il nostro video può finire qui io vi ho raccontato tutto anche i nuovi polter clancy e berry qui il bolt walk che vi spiego anche dove potete vederlo qua insieme a un giorno fa del video cioè è una giornata bellissima se cliccate sul bolt walk la scritta rossa che c'è stato stavato scorso alle 5 potete vedere il nuovo bolt walk che dura 9 minuti alla prossima per un altro video chi lo so se se cliccic o normale ciao